Ciao ragazzi e bentornati, si chiude abbastanza bene questa giornata di Serie A perché comunque l'Inter prima a distanza siderale, poi ci siamo noi a 57 punti il Milan che pareggia, ieri si chiamano due punticini, quindi 53 il Milan il Bologna sta a 48 quindi a 9 punti da noi c'è l'Atalanta che è a 46 ma con una partita in meno, quella contro l'Inter che adesso ditemi voi, chi dobbiamo tifare, l'Inter o l'Atalanta? Io vi dico per me è inutile sperare nello scudetto a questo punto che vinca l'Inter o che si pareggi però l'importante è stare in una safe zone importante poi c'è la Roma a 44 per cui può ancora competere la Roma per entrare in Champions League perché occhi a 5 posti che ballano, però non è di questo che voglio parlarvi voglio parlarvi dell'intervista che ha rilasciato Zinedine Zidane perché mi pare un'autocandidatura chiara e tonda, ne parliamo insieme Bentornati ragazzi, come state? Mi auguro bene Prima di iniziare vi invito ovviamente a commentare, ditemi la vostra opinione sotto nei commenti e ditemi un po' la vostra, tifare Inter con l'Atalanta o tifare Atalanta perché comunque siamo sempre contro l'Inter quindi zero ragionamenti razionali sulla nostra classifica ma quando perde l'Inter va bene tutto quindi questo è, oppure insomma ditemi la vostra e ditemi la vostra anche su Zidane perché sono curioso di leggervi e iscrivetevi al canale che è molto molto importante perché voglio parlarvi di Zidane? Perché Zidane, allora c'è stata intanto una sorta di festa tra i giocatori di Lippi, praticamente è stato presentato il film, il docufilm su Marcello Lippi Adesso vinco io, che è nei cinema Uchi e in alcuni altri cinema controllati nei cinema della vostra città si viene trasmesso questo documentario che secondo me è molto molto interessante e lì in questo incontro con ex giocatori della Juve eccetera è stato intervistato e pizzicato e ha rilasciato delle dichiarazioni succulente succulente che vanno sicuramente discusse si è espresso su Lippi, ha detto come allenatore ho preso tanto da Lippi e Ancelotti Lippi è stato il primo che ha creduto in me mi ha fatto venire alla Juve e sono diventato quello che sono grazie a lui io ho amato la Juve di Lippi, l'ho amata con tutto sono diventato gobbo con la Juve di Lippi futuro in Italia? Perché no? Può succedere di tutto, mi piacerebbe un giorno queste sono state le sue dichiarazioni dell'ex tecnico del Real che attualmente è senza squadra, ricordiamo ora qua tanti possono dire la propria su Zinedine Zidane ma secondo me ci sono tanti falsi miti, io vi dico la mia è affascinante come sfida ma ovviamente è illecito, credo per noi tutti grandi estimatori di Zizou, avere dei dubbi, delle riserve però ci sono anche dei falsi miti che accompagnano un po' questo giudizio nei confronti di Zidane e quindi voglio dirvi bene la mia opinione su Zinedine Zidane come allenatore potenziale della Juventus io ragazzi non so, andrei probabilmente su altri profili che sono già in ballo da un po' che vogliono fare quel saltello là, che hanno quella fame là, che hanno quella cattiveria là di arrivare e quindi non andrei dritto su Zidane tuttavia non vi nego che il nome è affascinante che sicuramente è un uomo di un carisma esagerato che nello spogliatoio si farebbe rispettare perché non solo ha vinto da calciatore quel che ha vinto ma ha vinto anche da allenatore ragazzi tre Champions League che cazzo stiamo parlando poi voi mi direte è però colpa le ha vinte con il Real è come darvi torto anche qua però in tanti pensano a Zidane un gestore che non è proprio così Zidane ha dato un'impostazione chiara a quella Real Madrid a volte non giocava neanche troppo bene il Real però era una squadra che era costruita con dei principi se andate a vedere ci sono tanti video di tattica dove vi fanno vedere un po' l'azione e come si sviluppa la prima costruzione con i famosi triangoli in movimenti senza palla poi c'è la tecnica sopraffina però è anche un giocatore che ha saputo valorizzare i giovani da Valverde a Rodrigo a Vinicius che oggi li vediamo in tutta altra veste ma sono passati degli anni da quando si danno le navi al Real ed erano giocatori che sono stati valorizzati e inseriti piano piano in un contesto altamente competitivo come quello del Real è che adesso fanno le fortune dello stesso Real se andiamo a vedere anche quel che dicono gli stessi giocatori su Zidane vi dico alcuni virgolettati Federico Valverde giocatore straordinario dalla castagna meravigliosa e allora disse quando sono rientrato dal prestito al Real mi ha detto non sei sotto processo la miglior formula per scrollare tutto il peso dalle mie spalle cioè ti parla veramente come se fosse un amico ogni sua parola la devi tenere a mente questo è quello che dice Valverde di Zidane Vinicius mi dice di lavorare molto perché sono giovane e di non dare ascolto agli estranei ascoltare le persone della famiglia e del club e mi assicura che insieme a lui e i compagni mi irrerò anche Rodrigo con Zidane sono molto a mio agio è un tipo molto gentile che mi parla sempre e mi dà consigli mi chiamo nel suo ufficio e mi mostra cosa ho sbagliato mi consiglia di fare quello che ha fatto lui quando giocava e mi ha aiutato molto per cui anche nel processo di crescita di un ragazzo giovane pensiamo un po' alla nostra situazione a Yildiz, ai Miletti a tutti questi giocatori qua possono sicuramente trarre giovamento da una figura come Zidane poi Zidane è anche il classico allenatore che si sa circondare di gente stracazzutta nello staff perché quel che mi è stato detto è che va dei collaboratori della Madonna però ripeto questa mi pare una bella autocandidatura di Zidane secondo me se la Juventus iniziasse a pensare a lui lui darebbe una grande apertura per tornare ad allenare e insomma tornare ad allenare la Juventus però la riserva è viene da una grande da un grande ciclo fatto con Real e Real rimane una situazione un po' a sé stante e riuscirà a replicarsi beh è normale avere tanti dubbi tante riserve come quelli che ce l'hanno anche per Tiago Motta riuscirà a fare il salto beh ragazzi sapete qual è l'ingrediente segreto per far sì che i cambi di allenatore portino a qualcosa di interessante beh intanto una grande valutazione sui contenuti di quell'allenatore da parte della dirigenza che deve sapere valutare bene l'efficacia del lavoro di quell'allenatore secondariamente una grande intesa tra dirigenza e allenatore una grande unità di intenti questo è il segreto ed è quello che è mancato negli ultimi anni nella Juventus tra mille peripezie e casini che sono successi nell'ultimo anno il penultimo anno di Allegri non questo qua però per il resto abbiamo avuto sempre di allenatori scarsamente spalleggiati dalla dirigenza in balia dello spogliatoio spesso e volentieri e quindi sapete che vi dico l'importante è che la dirigenza vada convinta di quella scelta la difenda fino all'ultimo giorno e poi ci saranno le valutazioni del caso però questo credo che sia il miglior presupposto per scegliere un allenatore che sia Zidane che sia Tiago Motta chi sia chi vi pare questo è il mio pensiero però ripeto dopo Conte anche Zidane apre a un eventuale ritorno in Italia su una panchina e perché no magari è proprio quella della Juventus aspetto le vostre opinioni sotto nei commenti sono molto curioso poi ragazzi ad oggi ho fantacalcio ad oggi è ipotesi ma quanto è bello parlare anche di queste cose quanto è bello fantasticare lo fanno anche i giornali con i vari nomi di mercato Cup Mainers anche oggi no avete visto oggi è già martedì siamo un po' lontani dalla partita con Frosinone se allontani dall'altra partita riempiamo col mercato con la Juve che avrà Cup Mainers tutti questi nomi qua eccetera 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 io ragazzi francamente sapete che vi dico faccio spallucce ne parlo con voi ci chiacchio mi diverto però già il fatto ripeto che i giornali pensino alla Juve di domani e non a quella di oggi la dice lunga sul fatto che la Juve sia tagliata fuori completamente dalla lotta a Scudetto poi ditemi la vostra opinione che sono curioso di leggervi vi mando un forte abbraccio belli e sempre sempre fino alla fine Forza Juve Forza Juve Grazie a tutti Grazie a tutti